ragazze buonasera e buon mercoledì 13 di settembre ore 16 e 33 ragazze pomeriggio perché da questa mattina che sono cominciate le scuole una marea di mamme in giro qui e passate a trovarmi finalmente sono riuscita a trovare un attimo di tempo quindi adesso per far vedere questo il mio look of the day ragazze io me ne sono innamorata mi piaceva tanto l'abbiamo scelto l'ho scelto questo completo che abbiamo nella versione sabbia e nella versione bianca e nera in tessuto di piedi pull un semi elasticizzato che veste benissimo mi è piaciuta tantissimo la fantasia che comunque è classica che si abbina su tutto pure su un jeans su una t-shirt nasce a completo ma può essere venduto singolarmente quindi abbiamo la giacca perché questa volta parliamo di una giacca con un bottone e del pantalone e ragazze finalmente mi sono presa questa mattina questa storia sarò sincera mi sono messa appositamente la giacca ragazze è incredibile la vestibilità la morbidezza la leggerezza perché è sfoderata un tessuto semi elasticizzato veste veramente incredibilmente bene veramente incredibilmente raga bello comodo sto indossando una s di taglia guardate pure le spalle mi vanno bene mamma mia che vestibilità che ha questo completo e ce l'abbiamo disponibile fino all xl sicuramente non ricordo se c'è ancora la doppia xl disponibile in entrambe le colorazioni ma questa è quella nuova ovvero il bianco e nero l'intramontabile quindi mie giovani fanciulle se avete bisogno di un completo per un battesimo per una comunione per una cena per essere fighe comunque pure per tutto il giorno perché è veramente ultra comodo cioè guardate il pantalone come ne sono rimasta entusiasta cioè il pantalone di una comodità con una vestibilità mi arriva praticamente a coprire l'ombelico quindi medio alto di vita un semi elasticizzato ma non semi elasticizzato un elasticizzato fantastico che non aderisce assolutamente cioè guardate quanto spazio pure nella s morbido sulle gambe la lunghezza quella giusta perché si può tirare giù e quindi diventa lungo se c'è andato a mettere magari un tacchetto o una sneakers perché secondo me sta benissimo oppure ve l'ho detto con una sneakers e una t shirt stampata io c'ho addirittura abbinato come avete visto l'anfibietto per per sdrammatizzare e è fantastico mi ha preso il cuore dice sì va beh ma che ci avevi tu stamattina che cosa con cosa sei venuta vestita quest'oggi il mio look of the day di oggi in realtà v'appoggio un attimo nasce con la t shirt a costine che è questa qui che sto indossando il pantalone pure ovviamente è questo qui che sto indossando a fantasia piedi pool che veramente cioè top ragazze incredibile ma anche la pesantezza è perfetta per oggi pure della giacca cioè io stamattina sarei uscita volentieri pure a saperlo me la sarei presa subito con quella ma vi dico che ho pensato ancora magari fa caldo ancora si sta bene ancora ancora lo riesco a sfruttare bene e magari mi piace sul pantalone lungo il gilet in tessuto di crepe in taglia unica quello che già mi ero presa e che vi ho fatto vedere indossato nella versione sabbia perché è comodo e lungo e pratico rimane aperto quindi si vede non si vede ho pensato magari il pantalone mi rimane un po tirato no perfetto fantastico adorabile incredibilmente adorabile allora vi dico la maglia che sto indossando è a costine sotto sempre reggiseno nero quindi ragazze non traspare nemmeno eccessivamente dai forse proprio un piccolissimo accenna ad essere sinceri si vede ma basterebbe metterlo chiaro però a me non crea tutto questo grande problema per quanto riguarda la disponibilità oltre che nella versione bianca come questa che sto indossando io stavo cercando il punto di luce che vi facesse vedere la differenza c'è anche nella colorazione champagne quindi molto molto chiaro però tendente al sabbia ovviamente disponibile la bianca come la mia e c'è anche questa colorazione avion chiaro chiaro che sta benissimo pure su un jeans guardate quanto è bello questa tonalità la lunghezza è quella giusta perché si appoggia proprio sul pantalone il girocollo pure rimane molto molto morbido sono riuscita durante l'ora di pranzo quando arrivo a casa a cambiarmi e nonostante non ho fatto alcuna fatica a sfilarla senza sporcarla perché insomma col trucco vuoi un po' magari non si sporca se non è proprio morbido morbido invece no morbido morbido pure il girocollo e la manica pure ragazze sempre in tessuto a costine vedete che avanza pure un po' di spazio quindi assolutamente non aderisce fantastica bello mi è piaciuto oggi sono vestita e soddisfattissima di questo mio outfit perché rivelazione sono sincera pensavo che il pantalone fosse una punta più rigidello invece no veste benissimo per quanto riguarda la cintura avendo la pancia che magari si può scoprire perché la maglia sta proprio a filo ho deciso di abbinarci questa che praticamente a tutti quanti i buchini e quindi arrivano eccoli fino a qua vedete quindi la potete regolare tranquillamente nella foto look of the day poi che prima o poi riuscirò a postarvi ragazzi ho tante foto da postarvi ancora di fare una bella sequenza insomma anche di fare una bella paginetta per farvela vedere ragazze la borsa in tessuto molto molto morbido perché si avvicina all'autunno e quindi è carino anche l'effetto un po' trapuntato di questa borsa che ricorda vagamente quello dei piumini che ha gli spallacci in velcro ovviamente è ultra comoda ma è anche molto molto capiente e ha una bella zip che la chiude io sono fissata con questa cosa la giacca ve l'ho fatta vedere lo spolverino come vi stavo dicendo o meglio il gilet disponibile nella versione nera e nella versione sabbia il tessuto è quello di crepe quindi è perfetto per queste giornate che sembra che ecco per esempio oggi sia un po' annuolato però fa caldo ragazzi ancora fa caldo la magliettina ve l'ho fatta vedere il pantalone ce l'abbiamo come vi stavo dicendo disponibile a taglie nella versione sabbia che è questa qui e nella versione bianca e nera assortito nelle taglie dopo avervi ricordato di controllare sempre la pagina perché sto continuando io a pubblicare e quindi mi raccomando scoprite quali sono gli articoli della nuova collezione mettete i like a quelli che vi piacciono di più vi ricordo che abbiamo ancora attiva la mega promo sulle scarpe ovvero 50 euro di spesa d'abbigliamento e una scarpa a vostra scelta a soli 10 euro che la promo è attiva anche per lo shopping online adesso è arrivata gabriella quindi io vi lascio rgn lovers c'è da manure tutto ciao